e bella a tutti ragazzi sono sempre io e oggi sono con un video che avevo registrato due tre anni fa circa su fifa 14 e vedrete che io non so per niente giocare per questo il titolo e niente spero che vi piaccia piaccia questo video è stato preso dal canale che feci con dei miei amici tre anni fa e niente buona visione ok inizio bella idola trucchetti è difficile c'è un sacco di tempo per imparare aduncan 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 da dove parte l'inter in contrapiede con guarinna guarinna lascia partire il tiro nooo eh ecco poi si si spai in grifo uuuu ranocchia mi non so la vita è proprio ranocchia ok nooo nooo bella buona donna nooo baffanculo baffanculo io non ce la faccio io sono peggio di Germano Mosconi aspetta ci sono interruzioni una come la ecco si ai eeeh ahahah ma la mia barata epica eeeh giovannino giovanni muscu scusami eeeh vai attenzione ci prova ma non ci riesce provando a minchia che il dimensione centrale il suo riflessione ha mostrato il numero di tiri in porta delle due squadre grande tiro come ti ho fatto a mio palazzo proprio di quelli pesanti qual è il problema narcis non vedo l'ora che devi avere una bella lezione brutto bastardo dai corri corri da me sp ma non sai giocare dico io attenzione ci prova di cross trovate in la in no tanto ormai ho vinto chi vince fa con il ciso vinto vinto no what the fuck andai amici che cavolo fai delicente mamma mia cazzione oggi ho raggiunto un altro livello oh what the fuck what does the fuck say googling ying 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 y unt 몰래 twy huh ying 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 Va bene raga direi di chiudere qua questo video Spero che vi sia piaciuto Se si lasciate un like Iscrivetevi al canale Mettete il bacio a pagina Facebook Trovate i link in descrizione con altri social E niente Ci si vede alla prossima E non imitatemi a FIFA